attenzione, un attimo, interrompiamo un attimo Tiro Resta così con le slide Chi è? C'è un sito Non vengo riuscita Non penso che era l'ospitale Non penso che era l'ospitale No, lui sta lavorando in ospedale stasera Stato lavorando in ospedale E fagli delle domande, scopriamolo, vai Tigrotto Come ti chiami? Tigrotto 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 ti chiami Non ti conosci Io sì, ti conosco, Sergio, sono tuo fan Ah, ecco, allora va bene Sì, va bene Mi fai conoscere Gorilla? Sto cercando nuove esperienze Eccolo qua Va bene il ginocchio, Pietro, grazie Oh, e adesso cosa fanno, zì? Come si vede le tette? Si baciano Al ginocchio tutto a posto Si mangia bene Oh, zì, vai Sì, Gorilla, sì 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 Bene, Sergio, fai parlare Gorilla, no? Col Tigrotto Fallo parlare Allora Ti piace la trasmissione che abbiamo fatta? Sì, mi piace la trasmissione che abbiamo fatta, sì E tu sei cattivo con me? No, non sono cattivo con te Gorilla, ti posso fare una domanda? Sì, dimmi pure Ma, quanti centimetri hai il pene che possiedi? Poco, poco Viva la figlia! Ah, ok Bene Posso toglierlo? Sono un po' imbarazzati, Tigrotto Eh, infatti, sì Certo, chiedi la Gorilla, sì Può stare quanto vuole, Gorilla Ma, ma tu Gorilla Aspilanzato con te Aspilanzato Di Grotto? Sì Aspilanzato Aspilanzato Aspilanzato